Musica Siamo giunti alla quarta edizione di Ascola di Open Coesione, il progetto che parte dalle competenze digitali sui dati per insegnare agli studenti delle scuole superiori come vengono spesi i fondi pubblici. Musica I ragazzi hanno fatto un grande percorso di crescita relativamente all'uso di strumenti innovativi ma soprattutto con il lavoro di gruppo e il confrontarsi sempre di più con il territorio e con le istituzioni. Musica Gli studenti hanno effettuato ricerche su progetti finanziati sul proprio territorio, su temi che spaziano dalla cultura e turismo all'ambiente a tutti i temi che riguardano le politiche di coesione a partire dai dati che si trovano sul portale Open Coesione. Musica Musica La scuola di Open Coesione ci è servita proprio a questo, a scoprire cose che alla fine ci dovrebbero interessare direttamente e che troppo spesso sottovalutiamo. La scuola di Open Coesione non è soltanto scuola ma è una community, una community fatta di istituzioni, prima fra tutte il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Istruzione ma anche la rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Musica La scuola di Open Coesione rappresenta un'eccellenza dal punto di vista europeo. Non c'è in nessun altro paese un progetto che riesce a coinvolgere nel monitoraggio civico, nella cittadinanza attiva, nel capire come vengono utilizzati i fondi a livello locale, così tante scuole e così tanti studenti. Musica Dopo il percorso di ASO che ci ha permesso di diventare cittadini attivi, ora possiamo anche dire di essere cittadini europei. Musica